Scusate un attimo, che bussano? È permesso? Siamo noi la luce dell'amore Ea, ea Porta via il buio da tuo cuore Ciao fratello Ciao Siamo Johnson & Johnson, ti ricordi di noi? E chi si scorda di voi? Soprattutto lui Fantastico Ebbene, siamo venuti nuovamente dalla nostra chiesa Dicevo, siamo venuti nuovamente dalla nostra chiesa Siamo venuti Dalla nostra chiesa Apposta per predicare la parola di Momon Guardate fratelli, io vi ringrazio per la vostra attenzione Ma io vi devo confessare che ho parlato con le altre truppe di Extra TV E in tutta franchezza non mi sembrano così disposti all'argomento religioso Ma questo capita quando qualcuno non conosce la forza di Momon Cosa è capace di fare Momon? Cioè io adesso ti faccio qualche esempio della differenza tra Momon e d'altra religione Ah, diciamo che Mormon offre qualcosa in più, dei bonus rispetto agli altri Certamente E quali sono questi bonus? Cioè ad esempio, se Maometto non va alla montagna La montagna va da Maometto Cioè, ma vi sembra educato tutto ciò? Non lo so Cioè, se Momon non va dalla montagna Avvisa Beh Fa una telefonata Cioè avvisa e dice Ciuccio, bestie, non arrivi È vero, è giustissimo No, ma in questo mi sembra che Mormon sia molto più educato di Maometto Cioè, per esempio I musulmani I musulmani possono avere quattro mogli Sì Cioè, e se sono dei rottami? Se sono dei rottami, peggio per loro, sono guai seri E ben Mormon permette di spossare otto fotomodelle Ecco, questo mi sembra un punto molto positivo della religione di Mormon E se si separano, addirittura non bisogna neanche pagare gli alimenti Li paga Mormon Questa è la fine del mondo Ma adesso però, visto che dobbiamo fare il programma Guardate Facciamo così Io adesso vi prometto che ne parlo con gli altri di Extra TV Quelli però sono atei Non so se accettano Però io giuro che gliene parlo Va bene? Magari Voi la prossima volta Venite e vediamo che cosa succede Potremmo anche organizzare un concerto di canzoni Ma certo, pure il concerto Facciamo quello che volete Ma adesso dovete Siamo noi la luce dell'amore Andate, andate Arrivederci Pote via il buio del tocco Arrivederci, tante cose Paolo, i sondaggi finali Ciao Belle cose a te la chiedi Paolo, sondaggi finali Ciao a tutti